Il cinema può insegnare tante cose. Puoi aiutarci a riflettere, a superare barriere e pregiudizi, a scoprire il valore della diversità, a riflettere criticamente. Puoi aiutarci a contrastare la violenza, come quella da ultimo due giorni addietro ad Alatri. Puoi aiutarci a contrastare quella violenza verbale che circola sempre più velocemente tra il web e le nostre relazioni umane. Quando si diffondono fenomeni come quello, con modalità diffuse di violenza e di linguaggio violento, non sono sufficienti gli appelli per correggerli. Servono anche linguaggi altrettanto efficaci, immagini, messaggi che scuotano le coscienze e che vengono proposti con efficacia, anche con leggerezza, con allegria appunto.